in spiaggia no arrivano in spiaggia ti stilano fuori asciugamano tutto però il problema è che sti tre zoppi sono mal messi no uno cammina così l'altro cammina così e l'altro cammina così no allora ci sono tre donne da lontano venite non c'è nessuno in spiaggia venite facciamo il bagno insieme il bagno però adesso come facciamo adesso vediamo che c'è un zoppi non ci considerano allora venite venite il primo fa dobbiamo studiarci qualcosa allora il primo comincia prende parte del primo ma non è se bruci ma non si brucia ma non si brucia e arriva lì e si butta in acqua questa qui allora poi ci sono le altre dai venite anche voi due allora parte del rato ma che cazzo facciamo adesso allora prende coraggio dio porco pieno di fosse ma che c'è sta cazzo comunque arriva e che spettacolo e l'altro c'è l'amico ma bastardo ma bastardo bastardo ce l'ha fatta allora l'amica dai vieni anche te vieni anche te ma come facciamo le copro io le buche ciao 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 ciao